Immagina un'auto che non solo ti permette di viaggiare per centinaia di chilometri senza mai fermarti a ricaricare, ma che utilizza il sole per alimentarsi. Questa è Aptera, un veicolo che sembra arrivare direttamente dal futuro, ma che è qui e ora, pronto a rivoluzionare il concetto di mobilità sostenibile. Aptera Motors non si è limitata a costruire un'auto elettrica, ma ha creato una soluzione innovativa che unisce tecnologia, design e rispetto per l'ambiente in un modo mai visto prima. Il cuore del progetto Aptera risiede nella sua capacità di massimizzare l'efficienza in ogni aspetto. La forma aerodinamica del veicolo, ispirata alla natura e alle leggi dell'aerodinamica avanzata, è progettata per tagliare l'aria con una resistenza minima. Questo non solo migliora l'efficienza energetica, ma regala al veicolo un aspetto distintivo e futuristico, un mix tra un'auto sportiva e un velivolo spaziale. Ogni elemento del design di Aptera è stato ottimizzato per un unico scopo, ridurre al massimo il consumo di energia. Aptera si distingue anche per i materiali utilizzati. La struttura è realizzata in compositi leggeri e resistenti, gli stessi materiali spesso utilizzati nell'industria aerospaziale, che garantiscono un peso ridotto ma una robustezza eccezionale. Questo rende il veicolo incredibilmente sicuro e, allo stesso tempo, permette di ridurre il consumo di energia. La caratteristica forse più sorprendente è la presenza dei pannelli solari integrati. Questi pannelli, distribuiti strategicamente sulla carrozzeria, consentono al veicolo di ricaricarsi utilizzando esclusivamente l'energia solare. Per molti utenti che percorrono distanze giornaliere moderate, Aptera potrebbe non necessitare mai di essere collegata a una presa di corrente. È la prima vera auto solare in grado di soddisfare il bisogno di mobilità quotidiana senza dipendere da fonti di energie esterne. Questo concetto di indipendenza energetica è rivoluzionario e apre nuove possibilità per il futuro dei trasporti. La tecnologia dietro Aptera non si ferma all'efficienza energetica. L'interno del veicolo è stato progettato per essere spazioso, confortevole e tecnologicamente avanzato. Il sistema di infotainment è intuitivo e include comandi vocali e connettività completa per smartphone, rendendo l'esperienza di guida non solo sostenibile ma anche piacevole e moderna. Il tetto in vetro contribuisce a creare un ambiente luminoso e arioso, rendendo il viaggio un'esperienza unica. L'autonomia è un altro punto di forza incredibile. Con configurazioni di batteria che vanno da 400 km a un massimo di 1600 km con una singola carica, Aptera supera di gran lunga la maggior parte delle auto elettriche tradizionali. Questo significa che puoi pianificare lunghi viaggi senza la preoccupazione di cercare stazioni di ricarica lungo il percorso. È una soluzione perfetta non solo per chi cerca un'auto per gli spostamenti quotidiani, ma anche per chi ama esplorare il mondo. Aptera non è solo un'auto, ma una dichiarazione di come la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare le sfide ambientali globali. Con il cambiamento climatico che rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, Aptera dimostra che un futuro sostenibile è possibile e che l'innovazione può essere la chiave per raggiungerlo. Ogni aspetto del veicolo è progettato per ridurre l'impronta di carbonio, promuovendo uno stile di vita più rispettoso dell'ambiente. Aptera è più di un mezzo di trasporto. È un simbolo di una nuova era nella mobilità, dove efficienza, design e sostenibilità si incontrano per creare qualcosa di straordinario. Per chi cerca un'alternativa ecologica senza sacrificare le prestazioni o il comfort, Aptera rappresenta una scelta visionaria, un passo avanti verso un futuro migliore. Questo veicolo non è solo una promessa di innovazione, ma una realtà che può ispirare un cambiamento concreto nella nostra società. Grazie.